Un problema per la Valle del Po, Mike, non si è fatto niente per fortuna, il fortone viene messo e ritornano indietro, velocissima Pugliel, velocissima Alba, qualche problema per il Puyard, riparte il secondo Pugliel, per l'Alba, problema per la Pugliel, va bene Istro, va bene il Puyard, grande girata, andiamo, andiamo, in testa Alba, in testa Alba, parte a testa Alba, terza concorrente per Istro, terza concorrente per il Puyard, problema per Istro, nessun problema per l'Alba, problema per il Puyard, deve rettificare l'altra parte per il Puyard, per un vantaggio enorme, 11, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, e 3, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 28, 31, 32, 34, Alba Mugliano, poi Istra, Alba Mugliano per Istra, Alba Mugliano per Istra, e adesso al quarto posto il play art. Grazie.